Benvenuti su canale YouTube Paoletti's Farm. Come vedete oggi ho delle piantine, degli ortaggi, che andremo a mettere nel terreno. Però non ci troviamo in campagna. Volete sapere dove ci troviamo? Scopriamo l'insieme subito dopo la sigla. Come anticipato prima della sigla, oggi ci tocca mettere queste piantine, questi ortaggi. Ci prepariamo la stagione estiva e quindi prepariamo l'orticello. Ma questo qui è un orticello particolare. Perché? Allora, iscrivetevi al canale YouTube Paoletti's Farm e attivate la campanellina. Così verrete aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Perché ci troviamo in una scuola, la scuola di Lucera Labbozzini-Fasani, che sta facendo questo progetto. Ma ve lo faccio spiegare meglio dal dirigente scolastico Pasquale Trevisovi. Riprende quello che era iniziato l'anno scorso con un Fairstreet Ukraine. Dove noi con quei soldi abbiamo riqualificato spazi pubblici, che prima erano contenuti in condizioni abbastanza critiche. L'abbiamo dato ai bambini. Per esempio in questo spazio qua, oggi, pianteremo degli ortaggi. con un'idea che quello che si ritrovano i bambini nel frigorifero, oppure che vedono al mercato, vedono tutte le fasi di crescita. L'abbiamo fatto anche con un incubatoio dove sono nati dei pulcini. Questo è un progetto che interessa le classi quinte della scuola primaria e delle scuole medie, che hanno fatto sostanzialmente l'impianto di irrigazione. Il materiale ci è stato donato da una ditta di Lucera, la Carnevale Irrigazioni, mentre le piantine ci sono state donate da un'azienda, SOMEPS, che produce piantine. Sono appena arrivate. Ma non solo, i bambini comunque hanno fatto anche un'altra attività. Quindi dal seme, che cosa è successo? Niente, noi abbiamo dato ai classi prime e seconde, abbiamo dato come l'anno scorso, delle piccole box, dove loro hanno piantato dei semini, che adesso stanno diventando delle piccole piantine, che andremo a mettere praticamente in tutte le aiuole. In questo modo noi abbiamo riqualificato uno spazio che non era facile da gestire a costi praticamente zero, ma soprattutto abbiamo dato ai bambini la possibilità di prendersi cura di un posto pubblico. E la cosa interessante, per esempio, è che fanno la gara, non perché non vogliono andare a lezioni, perché ci sono presi cura, ci sono dei ragazzi, soprattutto casi più critici, che venivano a scuola, non tutti i giorni, diciamo così. Cioè adesso alle sette puntuali di mattina, quando vengo io, loro sono lì che mi aspettano che devono mettere a posto il giardino. Ma non solo, responsabilizziamo anche i bambini, perché a Pasqua comunque le piantine non sono rimaste a scuola. Sì, le piantine appunto dei bambini più piccoli non sono rimaste a scuola, le hanno portate a casa in questi piccoli box e adesso in questi giorni provvederemo a metterle nel giardino, negli spazi. Quindi da oggi parte ufficialmente l'orto della Bozzini-Fasani, tra le piantine donate da SOMEPS, l'impianto di irrigazione e di carnevale irrigazione, il lavoro dei bambini da seme a piantina e quindi si inizierà a partire. Sì, non solo in questo plesso, anche gli altri plessi sono interessati da questa iniziativa. Ma una volta piantate queste piantine, chi si prenderà a cura? A chi se ne prenderà a cura? I bambini. C'è un sistema di irrigazione con un'elettrovalvola che comandiamo col telefonino, ma comunque saranno i bambini che ogni tanto andranno a vedere a che stato è la pianta. Ma una volta che ci sarà la raccolta, sempre i bambini raccoglieranno il tutto? Certo, sempre i bambini raccoglieranno il tutto. C'è poi un altro passaggio che faremo, che è quello dell'identificazione scientifica delle piante. Adesso attraverso, stiamo ancora studiando come farlo, o magari attraverso il telefonino i bambini faranno delle etichette in legno che pianteranno vicino alla piantina. Che metteranno vicino alla piantina. Dal seme alla raccolta. Ma è bello perché li vedi motivati, perché è qualcosa che sentono loro. Anche i genitori sono molto contenti di questa iniziativa. Spero che il video vi sia piaciuto. Con questa scuola i progetti vanno ancora avanti, vi farò vedere altri video. Ovviamente per vedere gli altri video vi dovete iscrivere al canale YouTube Paoletti Sfam e attivare la campanellina così verrete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Vi ricordo anche altri social come Instagram, Facebook e TikTok. Mi racconti, iscrivetevi anche lì perché tante volte metto dei piccoli aggiornamenti. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!